L'ultima, proprio l'ultima, di un giallo così intenso, così assolutamente giallo, come una lacrima di sole quando cade su una roccia bianca, così gialla, così gialla. L'ultima volava in alto leggera, aleggiava sicura per baciare il suo ultimo mondo. Domani sarà già la mia settima settimana di ghetto. I miei mi hanno ritrovato qui e qui mi chiamano i fiori di ruta e il bianco candeliere di castagno nel cortile, ma qui non ho rivisto nessuna farfalla, quella dell'altro giorno era l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto. Storicamente lo sappiamo tutti, gli ebrei sono stati per secoli perseguitati, basta pensare ai ghetti, il ghetto di Venezia è uno dei più antichi, se non il più antico d'Europa, oppure anche ai pogrom, alle spedizioni punitive che sono state fatte nell'Europa centrale, in Russia, contro questi popoli, i lituani, i polacchi. Poi, naturalmente, anche a livello religioso, la Chiesa cristiana pregava per i perfidi giudei, in quanto completamente diversi, anche per usi e costumi, da loro. Anche a livello economico, gli ebrei, siccome i cristiani per la religione non potevano prestare il denaro o fare usura, allora è diventata, diciamo, una pratica che gli ebrei potevano regolarmente usare, insomma. E quindi, anche da questo viene l'idea dell'usuraio ebreo. Naturalmente, poi, avevano anche potere economico, erano industriali, banchieri, e quindi avevano anche potere della stampa, giornalisti, commercianti, Tutto questo, specialmente in Germania, Hitler lo combatteva, perché lui aveva paura anche proprio del potere finanziario e della stampa, e dei loro contatti internazionali, per cui ha fatto in modo di poter distruggere sistematicamente il più possibile questo popolo. Penso che siano tutte le donne che subiscono violenza, tutte le donne private del loro diritto, Anna Frank è stata negata la libertà, è stato negato il diritto di crescere, di studiare, di scegliere, si è dovuta nascondere e ha lasciato il diario come testimonianza. Le donne iraniane oggi mostrano il loro volto, sono scese in piazza, si tagliano i capelli, bruciano il velo, e le immagini dei loro aguzzini. Muoiono per questo, rischiano la vita e muoiono, ma con i social mostrano al mondo la loro rivoluzione, la rivoluzione delle donne, e nessuno potrà dire io non lo sapevo. Allora, per me questa domanda non è stata affatto semplice. L'Anna Frank di oggi, io in due anni che faccio l'infermiera umanitaria, penso di poterla accostare a tante persone che ho incontrato. e tante bambine che per avere un futuro migliore sono dovute scappare con la propria mamma, e tante ragazze che magari per scappare da matrimoni combinati sono dovute salire su una barca e sperare di arrivare a destinazione senza nessuna sicurezza. Tante ragazze che sono state costrette a nascondersi pur di non venire torturate e maltrattate, per poi appunto anche loro fare un percorso assolutamente non sicuro. Quindi è difficile accostare la figura di Anna Frank a una sola immagine. Oppure basta vedere la situazione che c'è anche adesso in Iran, dove le ragazze fino a qualche anno fa facevano una vita piuttosto normale e esattamente come Anna Frank, all'improvviso si sono viste mancare tutte le libertà e le possibilità che avevano. Quindi l'università, lo studio in generale, la libertà di espressione, di parola. sapere che ci sono delle persone che ancora oggi sono costrette a nascondersi e scappare per sperare di avere un futuro e a volte non ci riescono nemmeno ad averlo, mi permette appunto di paragonare la figura di Anna Frank a più volti. La Shoah ci ha lasciato un monito di come l'uomo possa alienarsi da se stesso e divenire un non uomo, come diceva Anna Arendt, una non persona. La Shoah ci ha insegnato che la memoria è importante e che non dobbiamo ripetere ma più lo stesso errore, specialmente perché noi giovani abbiamo il destino dei nostri figli e questo è importante. Purtroppo ancora oggi molti stereotipi culturali portano alla discriminazione di popoli e gruppi sociali. Ne abbiamo degli esempi in Italia dove una parte della nostra popolazione veniva indicata come i terroni. Oppure popoli a noi vicini con presenze importanti nei nostri territori vengono indicati come popoli violenti gli uni o dediti a furti, rapine o quant'altro altri. Penso poi ad esempio all'etnia degli Uiguri nella Cina del Nord che vengono discriminati dal governo cinese per ragioni religiose e culturali. Oppure l'etnia kurda, la popolazione armena vessata in ogni modo dal governo turco. Poi ci sono anche etnie minori o gruppi sociali che subiscono le stesse conseguenze. Ad esempio gli zingari che sono le persone che rubano nelle nostre case, che rapiscono i nostri bambini. Ci sono stati, sì, episodi, ma non si può condannare un'etnia intera. I omosessuali diversi, i malati da rieducare che purtroppo nella nostra società vengono vessati in ogni modo e purtroppo a volte anche nelle stesse famiglie di appartenenza. Non ci scordiamo poi le discriminazioni di genere. Ricordiamoci che dietro agli stereotipi c'è sempre il consenso delle masse e quando si discriminano gruppi o popoli come possono essere appunto gli zingari, gli omosessuali e magari i disabili, beh, riflettiamoci sopra e non scordiamoci il passato. Lo stereotipo è un istinto negativo che noi dobbiamo combattere sin dall'infanzia del bambino, tramite la conoscenza, il rispetto e la curiosità verso il diverso. Accettare le imperfezioni e le diversità è un arricchimento non solo personale ma anche collettivo. Allora, penso che le imperfezioni e le diversità possono aiutare a crescere molto la democrazia e facendo comunque un parallelo con una situazione sportiva penso che possa andare molto ricchezza, molta ricchezza. C'è tanto anche di essere curiosi e quindi di andare a capire quello che magari non è il solito, il comune che vediamo e lo vediamo anche qua con tutto quello che ci è successo negli anni. Quindi tutti i bambini che hanno partecipato alla nostra attività abbiamo visto con situazioni ragazzi, ragazze, bambine che frequentano l'ambiente magari anche di paesi diversi che sono riusciti ad integrarsi a venire qua e a far crescere l'ambiente e sicuramente a far crescere anche un vissuto, un'esperienza dei bambini che fanno parte della nostra comunità da sempre. Quindi penso sicuramente che sia un valore aggiunto e che su tutti i fronti, tutti i rami le diversità possono sicuramente aiutare. Insieme alla memoria c'è il dolore presente nel tempo a consolidare lo stupore di quel fumo nel cielo ciottoli polvere baracche altre baracche filo spinato corrente passi grida marce ritmate come tamburi cani urla latrati cani tutti in fila a testa bassa l'appello divide l'appello divide padri figli madri subito falci ai vecchi freddo fango urla bastoni colpi punizioni freddo fame buio sporcizia tanfo l'acqua è inganno non più uomini non più donne non più bambini vestiti occhiali berretti scarpe valigie capelli 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 e fumo ogni notte altro fumo nessuno parla nessuno sa decine centinaia migliaia chissà tace milioni 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 che non accada più non dimentichiamo in milioni